Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della maturazione dei frutti ed epoca ottimale per la raccolta. Nella scelta delle varietà è opportuno inoltre conoscere l'epoca ottimale di raccolta, cioè quando si ha la massima quantità di olio della migliore qualità, chiaramente raccogliendo i frutti dalla pianta. Per definire al meglio questo periodo vengono presi in considerazione diversi indici, quali l'incremento del peso dei frutti, l'evoluzione del contenuto in olio e la cascola, i parametri commerciali richiesti dagli oli extravergine di oliva, il contenuto di polifenoli e l'analisi organolettica dell'olio. Sulla base di queste indicazioni la scelta delle cultivar viene operata anche in previsione di eseguire la raccolta in tempi successivi compatibili con le caratteristiche della cultivar. Per consentire un regolare uso del personale e delle macchine per un ampio periodo. Ragazzi con questo è tutto, come sempre se avete delle domande o di commenti fateli qui sotto, se il video vi è stato utile o di interesse vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace, se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti iscrivetevi al canale, per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!